Buongiorno, ciao ragazzi, cari omers, cara community, vorrei presentarvi il game kit che avremo sabato per il social game La Caccia al Tesoro in Borgo Campidoglio. Quindi, ad ogni partecipante verrà data la mappa del MAU, del Museo di Arte Urbana, che si trova in Borgo Vecchio Campidoglio. Vedete, qui ci sono le opere, la mappa delle opere, e tra queste dovrete cercare quelle che sono indicate dagli indizi che vi darà il vostro Game Master. Quindi, mappa e badge nominativo, quindi ogni partecipante avrà il suo bel nome appuntato mentre si gioca. Passiamo ai favolosi premi, ci sono tre squadre, la squadra più veloce, la prima classificata, avrà l'attestato di partecipazione, e poi avrà la mascherina di Jack, che è un artista che espone al MAU in gallerie della Madonna, e una lattina di birra, ispirata alla pop art da collezione. Questi sono i premi per i membri della prima squadra classificata. La seconda squadra avrà l'attestato e la mascherina, mentre la terza squadra soltanto la busta con l'attestato di partecipazione. Allora ragazzi, vi aspetto sabato per divertirci un sacco, e poi come sempre si va a bere, e chi vuole anche a mangiare, il gioco finisce alle 8, e per chi ci sta, dopo l'evento, pizzone in compagnia, ok? Vi aspetto sabato, ciao ragazzi, ciao!